ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario mask dog informazioni commerciali titolare dei mass srl concessionario dei mass srl confezioni mask dog os 200 ml indicazioni a un prodotto naturale che contiene un'alta concentrazione di olio di riso integrale dovrebbe essere dato ai cani per promuovere il loro sviluppo muscolare e migliorarne la condizione fisica nello specifico ha consigliato per cani da mostra e per cani che stanno recuperando da un infortunio è un prodotto che può aiutare lo sviluppo muscolare e la resistenza anche nei cani giovani fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato